In Consiglio regionale è stata discussa una mia interrogazione molto importante che riguarda il tema delle sondazioni sicuramente attuali e della siccità. Io ho ribadito nel fatto che la Regione debba fare la sua parte e sollecitando, ma in maniera anche abbastanza rapida, ma anche netta e chiara, è ad anticipare lo sfangamento delle dighe oggi presenti nella provincia di Pesorubino, in particolar modo la diga del Fullo, di San Lazzaro, di Travanelle, perché sembra un paradosso, ma nonostante le piogge che ci sono state, per l'estate rischiamo comunque di andare in crisi idrica. Ricordo che già lo scorso anno, in piena emergenza siccità, abbiamo approvato degli atti di indirizzo, dove la Giunta regionale si è rimpegnata ad anticipare la pulizia degli invasi, ma a tutt'oggi nulla è stato fatto. Quindi si continuano a fare annunci, ma poi non vengono seguite da azioni e fatti concreti. Dei tre invasi, infatti, solo per l'invaso del Fullo c'è attualmente un progetto in corso, ma ovviamente i lavori non sono ancora partiti, ci vorrà tempo prima che partiranno, mentre per l'invaso addirittura di San Lazzaro e di Tavernelle, gli altri due invasi molto importanti, non c'è neppure un progetto attualmente in corso. Si è visto che solamente pulendo gli tre invasi esistenti, l'acqua che potrebbe essere accumulata pulendo gli invasi, consentirebbe di coprire un fabbisogno idrico di ulteriori 40 giorni rispetto ad oggi. Inoltre, voglio ricordare che se gli invasi avessero comunque una maggiore capacità ricettiva, si ridurrebbero anche le esondazioni, perché ricordo che gli invasi svolgono un vero e proprio controllo sulle piene, quindi la pulizia degli invasi è veramente strategica. Per quanto riguarda invece la creazione di nuovi invasi, è emerso dalla risposta che la soluzione non sarà la realizzazione di piccoli invasi, in quanto troppo costosi e difficili da gestire, ma si punterà sulla creazione di bacini più grandi. Io ritengo che ormai il clima è cambiato e abbiamo di fronte, si pioggia sempre più violenti ed eccezionali, e che il terreno quindi non è in più in grado di assorbire l'acqua nelle falde idriche sotterranee, che quindi non vengono alimentate di meno, non vengono alimentate, e penso che per il futuro, il futuro non sarà scavare nuove pozzi di acqua sotterranea, quindi di acqua profonda, ma il futuro per riuscire ad avere l'acqua potabile sarà quello di pulire innanzitutto i bacini esistenti, di fare nuovi bacini che avranno anche un ruolo di laminare le piene, quindi ridurre i rischi di isondazioni. Rimango convinto che nel nostro territorio vada comunque progettato anche un impianto di disalazione per dare le risposte ad eventuali momenti di crisi di presenza di acqua potabile, soprattutto in estate, anche perché oggi i costi energetici si possono abbattere con le fonti alternative e quindi ritengo che occorra puntare anche sull'esalazione.